Vedremo, ho esposto, ho fatto già i miei auguri, è una persona che ha collaborato con noi, non ci sono stati motivi di attrito e quindi ha scelto lui volutamente di candidarsi, è pienamente legittimo, ci mancherebbe altro, a sindaco, ma c'è stata una collaborazione che è durata oltre 4 anni, Valiante non lo conosciamo, non sappiamo quali sono le sue posizioni, non sappiamo che cosa rappresenta e l'unica cosa certa è che il PD di questa città di 18.000 abitanti, che è l'undicesima città della provincia di Salerno, il PD locale non è riuscito a esprimere nemmeno uno strascio di candidato. Questa è l'unica cosa certificata, poi si abbiano chiamato Valiante o chiamavano il capogruppo alla Camera o chiamavano qualcuno che veniva dal Parlamento europeo, per noi è lo stesso, siamo abituati ai confronti, appena sentiremo parlare questo signore vedremo a che cosa ci sarà bisogno di rispondere. Entrambi hanno sentito l'esigenza però di fare sia Esposito che Valiante, di fare riferimento a un'area politica, in questo caso invece lei fa riferimento ancora una volta a quello che è l'impegno e l'impegno civile? Sono 20 anni, la mia prima elezione ormai è di 20 anni fa, ho fatto due consigliature piene, sapete poi ho tirato la volata a Cosimato prendendo da solo oltre 1200 preferenze, voglio dire doveva essere anche quella una consigliatura a Targato Moscatino, non lo è stato perché si sono un po' distratti quei ragazzi, insomma sono stati 5 anni fallimentari, poi ci siamo ricandidati, abbiamo rivinto e dovremmo fare di nuovo questo biennio, e dopo di che penso sia anche giusto che uno passi la mano, il testimone appunto a questi giovani che sono cresciuti vicino a noi e da 20 anni ti dicevo come sai bene, noi ci siamo sempre presentati con una lista civica perché è una mia profondissima convinzione a livello comunale in qualunque comune a Firenze o a Roma, a Salerno o a Reggio Calabria, a Treviso o a Genova non conta la tessera di partiti, a parte che se tessere di partiti ormai sono veramente poche perché non vedo tanta gente gioiosa di tesserarsi ai partiti, ma voglio dire nel pieno rispetto, ripeto, di ogni opzione, io credo che non è importante se tu, faccio sempre questa battuta con i miei collaboratori, sei monarchico o repubblicano per andare al 46, alla prima scelta che abbiamo, i nostri padri hanno dovuto fare, è importante le idee che hai per la tua città, la passione che ci metti, la competenza che dimostri, il coraggio di avere delle idee, la compattezza e perdonatemi se uso un termine che ha usato un grande maestro italiano che ci ha dato la soddisfazione di tornare a vincere a livello internazionale, più che di tessere ci bisogna parlare di amore, per fare delle cose, per fare dei lavori, ci vuole un po' d'amore, è una cosa un po' atipica che in politica o in amministrazione si usi questo termine, ma io lo userò spesso durante la campagna elettorale, io credo che non è importante fare la pulce allo schieramento, vedere se l'Udc, ecco io mi dovrei preoccupare se l'Udc, il PD, SEL, fratelli, sinceramente, sinceramente, con tutto il rispetto per queste forze, io credo che quello che è importante è le idee che ci sono, la capacità di trasformarli infatti, come potete poi dopo vedere da questa prima uscita di manifesti che noi faremo, che abbiamo già fatto, dove senza mettere nessuna parola noi facciamo vedere che c'era prima, che c'era dopo, capiranno i bambini fino ai centenari che abbiamo ancora felicemente in vita a Baunissi, capiranno tutti, ecco, fatti, non troppe chiacchiere, idee lungimiranti per il futuro, coesione tra il gruppo che va al governo, rispetto per chiunque, per l'avversario, quindi non utilizzare le schifezze che hanno utilizzato contro di me per tanti anni, ma utilizzare invece, come dicevamo prima, sempre, sempre, sempre la ricerca del dialogo, del rispetto, perché con il rancore e con l'odio non si va da nessuna parte e questo è quello che ha reso Baunissi una grande comunità. Baunissi non è che è soltanto più bella perché abbiamo più giardini, Baunissi è più bella perché la gente sente che in questa cittadina c'è un'anima, c'è qualche cosa che tiene insieme le persone, non si può spiegare questo in termini economici o socio-politici, ma è così, è così, è come quando uno vede la Juve giocare e vede giocare con qualche altra squadra italiana, ci sono altre squadre non male in Italia, ma la Juve gioca con uno spirito particolare, io non sono juventino, ma ammetto che la Juve gioca con grande grinta, con grande determinazione, forse ha dei giocatori addirittura inferiori alla Roma, al Napoli, ma ha tanti punti più del Napoli, perché c'è quel quid in più. Se non c'è questo, una comunità non va da nessuna parte, non c'entrano le teste dei partiti, non c'entrano se quelli dell'Udc o del PDC o dei monarchici e dei repubblicani votano per uno o per un altro, c'entrano le persone, chi ci mette la faccia, quello che si fa, quello che puoi dimostrare che è avvenuto come cambiamento, questo c'entra.